Ci sono lavori che sono notoriamente considerati lavori difficili particolari, molti dei quali vengono considerati anche parecchio pericolosi. Tra questi molto probabilmente non avrete pensato al lavoro di Rockstar, mentre invece in secondo uno studio del 2007 il lavoro di Rockstar è estremamente pericoloso. Considerate che hanno calcolato che c'è oltre il 50% di possibilità di morire molto giovane e quindi insomma questo istituto che ha fatto questa ricerca addirittura ha chiesto all'industria musicale di riuscire a fare in modo di inserire il lavoro di Rockstar come uno dei lavori potenzialmente a rischio. Insomma un music fact un pochino bizzarro che però mi piaceva condividere con voi. Grazie a tutti!